Gentili telespettatori, buona giornata. Sondaggio di oggi, 3 di maggio 2023. Il gradimento del governo è in crescita di tre punti al 56%. Tra i leader Mario Draghi al 58%, Meloni al 57%, Segue Tajani al 42%, Terzo il leader 5 Stelle Conte al 41%. La crescita più sostenuta alla registrata Schlein, passata dal 29% al 40%. La segretaria del PD è tallonata da Berlusconi, anche lui in forte crescita dal 30% al 39%. Grazie a tutti per avermi ascoltato, vi auguro buon proseguimento di giornata. Ci vediamo al prossimo video tra una ventina di minuti. Arrivederci a tutti e grazie. Grazie.